Belista dell'anno fino in 2000 e 22 mesi, nella terra del secondo millennio, i campioni non scirono più sull'alba, ma volano sempre più veloci. Ruggero Tinta e Caterina Martini non prendono un'altra scuola. A voi ragazzi, il trofeo dell'artista di Dior Mè, consegniamo a me una data, una data, una data, una data. Andiamo in Olanda, abbiamo senso il campionato del mondo, però si sono nascendo un po' normale nel Nord Europa, però noi siamo in Mondiali in Olanda, quindi andiamo a farci qualche settimana. Caterina Martini non prendono un anno e poi avremo il calcio del campionato del mondo e sarà la qualifica per l'azione, quindi è abbastanza importante. Adelina su questo interciclo, come ti suona? Sono onorata di essere campionista per la quinta volta e adesso vi cittadini per la quinta volta. E per ogni età? No, è sicuramente bellissimo, è una grandissima lezione. Sicuramente bisogna sempre tenere le glicette per terra, andare caldo, ci sono vari studenti, come dicevamo prima, il nostro è un grande dettivo, ma ci sono vari casi di studenti da compastare. Innanzitutto, come ha detto Ruggero, la qualifica della Nazione, il capo di squadra, al mondiale di quest'estate, ci saranno le selezioni interne, e quindi sicuramente ci aspetta un anno e qualche mese intenso, e adesso la troveremo veramente tutta, quindi come ho detto prima, testa basta e altro lavoro.